Ciao a tutti, oggi video molto breve ma andiamo a vedere come è stata l'ultima trimestrale di Netflix che è uscita proprio oggi Io sto registrando il video a luna di notte, domani mattina lavoro ma ci tenevo a dirvi la mia Visto che come tutti sapete anch'io ho una posizione in Netflix Devo ammettere quando ho aperto la posizione, che tra l'altro è una posizione molto piccola Avevo sbagliato a fare qualche valutazione Infatti mi ritrovo attualmente in perdita del 25% che non è tanto ma nemmeno poco E oggi andiamo a vedere se con le valutazioni aggiornate può avere senso investire ai prezzi attuali su Netflix Allora andiamo subito a vedere quanto sta facendo Netflix in After Hours Infatti sta facendo un più 7% andiamo a vedere se può avere senso Facendo un breve recap, questo qua è il grafico di Netflix Tra l'altro mi fa molto ridere che mi piace riaprire i grafici di TradingView dopo tanto tempo Perché come potete vedere questa era una linea che avevo tracciato mesi fa Su quello che secondo me poteva essere un supporto molto importante Devo ammettere non ho comprato quel supporto lì A rigor di logica e a posteriori direi peccato perché avrei guadagnato anche bene Però c'erano alcune cose che non mi convincevano e preferivo appunto aspettare questa trimestrale qua Ovviamente mi sono perso un bel rally però adesso andiamo a vedere con la valutazione aggiornata Se può avere senso investire o no su Netflix Come potete vedere qua mi sono andato a svisciare un po' la trimestrale di Netflix E mi sono segnato qualche cosa importante da dirvi Allora diciamo che le cose principali sono quelle che vi ho segnato qua Allora una delle cose che mi ha fatto più strano Ma da una parte mi ha fatto anche piacere perché non sono un grande estimatore di Reed Hostings È il fatto che ha rinunciato alla sua posizione come co-CEO Per diventare semplicemente il presidente esecutivo Lasciando appunto il suo posto a Ted Sarandos Un'altra cosa che sospettavo e si è effettivamente realizzata è il fatto che come potete vedere Tantissime volte viene fatto riferimento al dollaro forte Perché ovviamente Netflix come tante altre aziende americane Hanno una grossa parte di fatturato che arriva da altre parti del mondo E con un dollaro forte i guadagni tramutati in dollari sono sempre meno Quindi ad esempio qua vediamo come i ricavi sono cresciuti del 2% rispetto all'anno precedente Ma se il guadagno fosse stato senza calcolare il rischio cambio otteneremo un guadagno del 10% E queste cose sono da considerare perché? Perché se noi andiamo a vedere i prossimi trimestri dove il dollaro si sta indebolendo Questo potrebbe essere un ulteriore vantaggio per noi investitori in azioni americane Perché a parità di valuta estera un dollaro meno forte ci fa guadagnare di più La cosa sicuramente che penso abbia fatto rimbalzare Netflix è il fatto che ha aggiunto 7,66 milioni di abbonati a livello globale E quello che si aspettava l'azienda erano 4,5 milioni Mentre quello che si aspettava Wall Street era praticamente solo di 4,1 Quindi non dico che ha battuto le aspettative del 100% ma quasi Quindi sicuramente è molto molto positivo questo dato qua Ed è penso anche sia il motivo per il quale Netflix è salita del 7% in After Hours Una cosa che probabilmente avrà fatto storcere il naso un po' a tutti è il fatto che se noi andiamo a vedere l'EPS Come potete vedere qua all'interno della Shareholder Letter L'utile operazione è passato da 3,53 dollari a 0,12 dollari Che è anche al di sotto delle stime che avevano loro E questo è dovuto al fatto che hanno dovuto, ed è spiegato qua, me l'ero segnato Rimisurare il debito che avevano in euro E questo ha comportato una perita non monetaria Quindi non c'è stato un esborso di denaro da parte di Netflix Ma semplicemente è stato un ricalcolo del debito in euro All'incirca di 462 milioni di dollari Che non è poco E questo ha buttato giù l'EPS Un'altra cosa molto importante è il fatto che Per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie Perché per chi non lo sapesse Netflix ha nell'ultimo trimestre aggiunto un piano Che prevede un mix fra un prezzo sicuramente agevolato rispetto agli abbonamenti mensili normali E la visione di pubblicità E questo, a detta del management, è sicuramente una cosa da migliorare Soprattutto il targeting e la misurazione Ma è comunque soddisfatta dei progressi compiti finora E infatti dice L'engagement è migliore di quanto ci aspettiamo E ci può stare Un'altra cosa che mi fa storcere un po' il naso È il fatto che Netflix non prevederà più All'interno delle prossime trimestrali Di comunicarci il numero di nuovi abbonati a pagamento E nemmeno gli abbonati totali Perché attualmente, come dicono qua I ricavi sono ora la sua metrica più importante Questo mi sembra un po', passatemi il termine, una paraculata Perché si è visto abbastanza presiamente che Netflix sta faticando a crescere di abbonati E ci può anche stare visto l'exploit del 2020 Però concediamoglielo Sicuramente un'altra cosa molto positiva È il fatto che se noi andiamo a confrontare il free cash flow Che alla fine è l'unica cosa che conta Dell'ultimo trimestre è stato di 332 milioni Contro una perdita Quindi un free cash flow negativo Di 570 milioni Del Q4 2021 Quindi questa è sicuramente la cosa più importante Ed è anche questo, secondo me, il secondo motivo Per il quale Netflix sta salendo del 7% In After Hours Ora ne opero a vedere la mia valutazione aggiornata Per chi non lo sapesse Le mie valutazioni le faccio sempre tramite un algoritmo Che utilizzo io per valutare le aziende È un algoritmo creato da me Che sfrutta all'incirca 60 input E ci tira fuori un rating da 1 a 10 Per quanto riguarda la valutazione dell'azienda Sia in termini di crescita Sia in termini di stato patrimoniale Conto economico Multipli e tante altre cose Per quanto riguarda lo stato patrimoniale Abbiamo una valutazione positiva Quindi sicuramente è un'azienda solida E che non dovrebbe crearci problemi Da quel punto di vista lì Perché è un'azienda solvibile Per quanto riguarda anche il conto economico Non abbiamo problemi Perché gli indici sono tutti buoni Anche il ROE, ROE, ROIC e ROCE Tutti molto buoni Anche il gross margin Essendo un'azienda tech Ci può stare Che sia più elevato Della media dell'S&P 500 Per quanto riguarda i multipli Ora la valutazione è molto più sensata Rispetto agli anni scorsi Infatti abbiamo un price to free cash flow Di 86 Un price earnings di 28 E un price to size di 4 Che è sicuramente più elevato Della media dell'S&P 500 Però essendo un'azienda Con margini più alti Rispetto alla media dell'S&P 500 Ci può stare Ora andiamo però a vedere Come stimo io L'aumento di utili operazioni Per i prossimi 3 anni E quale penso sia un buon pie Per un'azienda del genere Fra 3 anni appunto Allora come potete vedere Io stimo una crescita Degli utili operazioni Del circa 11-12% Ano per i prossimi 3 anni Che secondo me È una crescita che Netflix Dovrebbe riuscire a raggiungere Abbastanza tranquillamente Infatti è una stima Abbastanza conservativa Però qua sorge il primo problema Infatti io stimo Un pie tra 3 anni All'incirca di 25 Quindi è un pie più o meno Uguale a quello attuale E questo ci porta ad avere Un guadagno All'incirca solo di un 25% Che non mi sembra abbastanza Secondo i miei calcoli Un prezzo buono per rentare Dovrebbe essere intorno ai 286 dollari Che si trova all'incirca qua 286 dollari Potremmo provare ad acquistare Magari intorno a questo supporto qua Che potrebbe starci Intorno ai 250 dollari Sarebbe sicuramente Un prezzo migliore Che tra virgolette Ci garantirebbe Un 10-12% anno Per i prossimi 3 anni Con un margine di sicurezza Del 10-15% A mio avviso Questa potrebbe essere Una valutazione corretta Per Netflix Detto questo Fatemi sapere qua sotto Nei commenti Se avete piacere Che vi porti Anche le analisi Delle trimestrali Di altre aziende Come Apple Microsoft Google E Amazon Detto questo Ci becchiamo Alla prossimo video Ciao